Vista il radio di venerdì, 18 ottobre, al venerdì Gli eventi della settimana a cui io e Ribi non andrei Buongiorno All'unisono Buongiorno Ribi, come va? Benissimo, questa canzone mi ha dato una carica pazzesca Hai visto, hai visto, sì, sì, è vero Come dire, la mettiamo apposta Anzi, è arrivato anche un whatsapp di Adriana Che dice, ok, adesso piango e canto fortissimo Madonna, addirittura piango C'è delle emozioni Sono gli ormoni, la mattina alle sette e mezza sono gli ormoni Sono gli ormoni, c'erano gli ormoni Comunque, allora, cosa ci racconti? Dove ci vuoi portare? O meglio, dove non ci vuoi portare? Allora, molti di voi mi avranno già ascoltato lunedì sera, immagino Alcuni eventini sono già ripetuti Ok, quindi se vi siete, potete andare a fare le vostre cose Sì, allora, intanto glielo diciamo adesso per non dirlo alla fine Ogni lunedì sera, dalle 20 alle 21 c'è tre Enmi Ok Fatto da me e da MM Ok, e non è la metropolitana milanese No, MM e MM MM Sì, esatto, infatti Va bene, andiamo avanti e procediamo Allora, intanto il primo evento dove sicuramente non andrò è il Festival della Carbonara Perché è così buono? A Nova Milanese, ragazzi, c'è una grande comunità di romani Boh, che ne so io Comunque, potevano stare a casa allora Dai, questa è la grande faida tra Milano e Roma Ok, va bene, va bene Tutto un gioco, ragazzi Scherzo Stasera, venerdì 18 ottobre Esatto, proprio questa Alle ore 20 e 30 Al centro feste di San Vito di Gaggiano C'è un bagno sonoro con campane tibetane Tibetane Però non puoi ridere così Perché leggi come l'aria feste di San Vito di Gaggiano e tu tu ridi Sì, sì, tra l'altro San Vito di Gaggiano è un bel posto Conosco anche gente che ci abita Anch'io Pensa che so che ci vive un Ranfi Che non è parente mio però Vive nel condominio di una mia amica E sul citofono c'è Ranfi ma non ero io Pensa Allora, questa cosa costa 15 euro Ma a me è quello che mi fa veramente riflettere È l'attenzione posta subito dopo Cioè ti dico quanto costa E poi ti dico Richiesti Cioè le cose che tu devi portare sono Un tappetino Un coscino E una coperta Eh, ce l'hai? Sì, ma non c'è andato Ah, ok Sempre su questo filone Diciamo Sabato 19 e 10 Dalle 14 alle 18 In via 3029 a Rho Ma bisogna prenotare Via 30 o 29? Via 30 Ah, ok Scusa Ho detto 30 No, no, l'ho fatto io la battuta Scusa, non l'ho capito Che ridere Via 30 o 29 a Rho Trattamento olistico gratuito Che si chiama Riequilibrio dei chakra Però io posso dire Tu sei ossessionata Da queste cose qua Ossessionata Ossessionata Ci devi andare secondo me Ossessionata Scoprirai il tuo terzo occhio Non penso proprio che potrei mai andarci uno Perché il rischio di addormentarmi è altissimo E poi comunque no Dai, non va bene Un altro evento Sei troppo pragmatica e poco spirituale Esatto, assolutamente Infatti dovrei fare qualcosa di spirituale Ci penserò per i prossimi eventi Il quarto evento è sempre su questo filone E si chiama Deep Blue Experience Il profondo blu dell'anima Un viaggio interiore Per sfidare i limiti E ritrovare benessere Domenica 20 ottobre In via Montegrappa 14 Al Play Club Dalle 15.30 Ma scusa Ma il Deep Blue Non è la depressione Con la roba niccia Non lo so Però a me il Deep Blue Mi fa venire in mente Gli abissi Beh, anche sì E io ho paura Gli abissi Ah, ecco Adesso si spiega Cioè, penso che Se mai andassi Se è un evento del genere Mi verrebbe un attacco di panico Eh, a vostro è un posto Vabbè Cos'altro hai? Concludo con l'ultimo Se per te va bene Mi dovrei assistere Nel leggere il titolo Perché sicuramente Lo sbaglierò Cari amici E ce l'hai lì Però non lo so Milano Giurli 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 Come ha detto Fabio Wic Capitale internazionale Della gioielleria Brilla con premi Esposizioni E nuove tendenze Purtroppo Un evento diffuso Un evento diffuso a Milano Dal 15 al 20 Dal 15 al 20 Quindi se volete Comprarvi Dei gioiellini Finisce domenica Sì, sì, sì Se volete Comprarvi dei gioiellini Dei gioiellini Perché non l'hanno chiamato così? Gioiellini a Milano Ma secondo me potevano chiamare così Poi Milano Gio... Vabbè Gioielleria È una roba importante Eh, non potevano chiamare Milano Gioielleria Raga Raga Amici degli eventi Meno inglesismi Più pragmatismo Grazie Io non so più cosa dirti Quando fai così Va bene Però Scusa Sarà una roba anche commerciale Cioè dove arrivano da tutto il mondo A portare i gioielli A Milano E parte del fashion Della moda Anche quella roba lì Non lo so Io non c'entrò Non mi interessa troppo Benissimo Basta Vabbè Allora Dai, no Prima di chiudere Ricordacelo a questo punto Anche l'appuntamento di lunedì Allora Vi ricordo L'appuntamento Per un grande Scoppietante lunedì Sera Prima di cena Di cena O post cena A seconda di come Ve la vivete Noi è pre-cena Dalle 20 e le 21 Ci sarà Trenmi Qui su Cristal Radio Io con MM Ecco Basta A posto Va bene No no Così volevo Mi hanno dato tutte le indicazioni Ma comunque volevo dirvi Che se tutto va bene Vado alla festa di Baggio Ah vedi Vedi che la qualche parte ci vai Anche questo è un evento Mi darà fastidio Qualsiasi cosa Ma ci andrò Ma come E se perché c'è la festa di Baggio Questo weekend Sì spero che ci sia tanta pioggia Ma no Vabbè Vabbè Se veramente Una bruttissima persona Anzi salutiamo gli amici di Baggio Ci vedremo molto probabilmente Domenica Alla festa di Baggio Ciao Baggiani No siamo Baggesi si chiamano Vabbè Lo sapevo Ciao caramici di Baggio E quindi salutiamo la nostra cialtrona E quindi salutiamo la nostra cialtrona Eribi Ciao E abbiamo appuntamento appunto lunedì a Trenni E poi venire di prossimo E poi venire di prossimo torni qua con noi Per gli eventi della settimana A cui non andrai Grazie mille Eribi Andiamo con un po' di musica E poi torniamo ancora qui Su Crystal Radio Alle 7.45 minuti 96.2 FM Dab Plus L'applicazione per iOS Android Il sito internet E poi se per caso Volete anche riascoltare i pezzi Delle cialtronerie Che dice Eribi C'è anche il sito Goodmorning.milano.it Tutto questo lo trovate Tutto questo tutte le mattine Qui dalle 7 alle 9